... ... ... ... ... ... arrivo! cazzo chi è? Lello, sei già qui si, però l'ascensore è rotto si va bene, ti apro ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 No posso farlo Aspetta 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Pronti Azione Grazie a tutti Tutta la mattina Grazie a tutti 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 Grazie a tutti